Buongiorno, sono la psicologa Cecilia Menghini e oggi scendiamo su campo in questa società così social, andiamo a capire veramente che cosa dovrebbero fare le donne per potersi tenere vicino il proprio uomo tutta la vita. Ma in questo mondo così lontano, così virtuale, noi abbiamo scelto di venire qui in aperta campagna e di rivolgerci all'uomo vero, all'uomo agreste. E abbiamo giusto appunto trovato questo signore che sta facendo una potatura. Andiamo a trovarlo. Salve! Buongiorno! Buongiorno! Potrebbe scendere dalla scala che avrei bisogno di... Io mi presento, sono una psicologa e sto facendo una ricerca. Posso farle una domanda? Dimmi, signore! Allora, innanzitutto come si chiama lei? Mi chiamo Angiolì! Angiolì, piacere! Allora, io vorrei chiederle, in questa società, noi donne, che cosa dovremmo fare per poterci tenere vicino un uomo, un uomo come lei, un uomo vero, dovremmo prediligere l'estetica, quindi l'aspetto esteriore, la bellezza, facendo però venire meno magari i principi morali, oppure prediligere i principi morali, un'integra educazione, la fedeltà e magari poi far venire meno quello che è il corpo, l'esteriorità, secondo lei. Tu hai studiato un coca? Certo che ho studiato, sì, io ho fatto psicologia, poi ho fatto due anni in masterclass, sì, ma comunque, che cosa deve fare per tenersi vicino l'uomo? Ecco, questo è il nucleo della domanda. Deve dare la frega! Deve dare la frega! Linea allo studio! Sì, 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 sì.